L'ascolto dello Spirito non ci rilega in una condizione di stasi avulsa della realtà, ma ci invita a prendere coscienza del nostro essere credenti e a testimoniare con Gesù la nostra offerta di vita. Gesù unto dallo Spirito è infatti sacerdote, sacrificante e offerta, che nel suo discorso da Dio può dire Padre Santo, per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati. La manifestazione della gloria nella piantagione del Signore è la manifestazione della santità. E questa santità non è solo una garanzia della presenza di Dio in noi, ma ha anche un impegno generoso e responsabile nei confronti della Chiesa. Quando Paolo ci richiama alle immagini del Tempio, dell'oblazione di colui che ufficia, conferma il carattere cultuale e spirituale della santità. Lo spazio entro i cui trova posto questa visione cultuale della Chiesa è il mistico corpo di Cristo. Ciò che è stato realizzato per noi nel Cristo ci è comunicato dallo Spirito, che è principio di comunicazione, da un battesimo di Spirito Santo. In riferimento a Cristo, da cui tutto proviene, e allo Spirito Santo, che è comunicazione, i fedeli e il popolo che essi formano sono un Tempio Santo, un sacerdozio Santo. Essi offrono sacrifici spirituali, santificati nello Spirito Santo, come Israele nel deserto, in forza dell'elezione di Dio e dell'alleanza, essi formano una nazione santa. La Chiesa vigna, piantazione del Signore, radunata dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come ci insegna il Concilio, citando San Cipriano, è animata da una profonda relazione tra dono gerastici e carismatici, che coinvolge così tutta la comunità dei fedeli alla missione Evangeli Trattici. Lo Spirito ispira questa profonda comunione dei fedeli e li unisce a Cristo, facendoli diventare sue membra. La presenza efficace dello Spirito nel cuore dei credenti diventa la fonte delle manifestazioni carismatiche a servizio della Chiesa, non dei nostri interessi. I doni carismatici e gerarchici sono così posti al servizio della piantazione del Signore, che nasce, cresce e si sviluppa nel cuore dei credenti. La Chiesa, vivificata dallo Spirito, è il segno sensibile che possiede e comunica la grazia di Cristo, in analogia con la funzione sacramentale dell'umanità del Cristo, verbo incarnato. Essa, la Chiesa, ha spirito santo ed octa, è purificata e santificata mediante i sacramenti. Questa partecipazione ecclesiale alla vita divina, che è evento di autodonazione della Tridità, si attua di continuo nella partecipazione all'Eucaristia, segno efficace nel pane e nel vino, prodotto dallo Spirito e donante lo Spirito, La comunità, in virtù dell'azione dello Spirito, realizza quest'unico popolo, diventando una nuova piantagione del Signore, in virtù dell'Eucaristia. Lo Spirito, anima della Chiesa. Questa profonda relazione di Gesù con lo Spirito, espressa dell'Evangelista Luca, nel ricordare la visita di Gesù a Nazareth. Abbiamo sentito già qualcosa su questo punto un momento fa. Il luogo dove era cresciuto, Luca 4, mentre Marco e Matteo ricordano solo che Gesù incominciò a insegnare nella sinagoga. Luca, rispetto agli altri evangelisti, esplicita il contenuto di questa predicazione, che è condensato nel riferimento al passo del profeta Isaia, dunque Isaia 61, che parla dell'anno jubilare come anno di liberazione e si ispira alle profezie del Messia. Nella sinagoga di Nazareth si vede non solo l'inaugurazione del Ministero pubblico di Gesù, ma anche la sua relazione con lo Spirito di Dio. Gesù esclama, «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Luca esplicita la relazione permanente dello Spirito su Gesù. La Chiesa, dopo la Pasqua, ha colto la dimensione trascendente e divina della stretta relazione tra Gesù e lo Spirito. Quest'ultimo ha preceduto e dato forma all'incarnazione del Verbo di Dio e da questa consapevolezza che si può comprendere la narrazione della concezione virginale di Gesù da parte di Maria. Si legge nel Vangelo di Luca, «Allora Maria disse all'angelo, come è possibile non conosco uomo?» le rispose l'angelo, «Lo Spirito Santo scenderà su di te». «Su te scenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio». E Matteo completa ancora questa citazione di Isaia. «Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi». Secondo Matteo e Luca, dunque, Gesù è nato dallo Spirito. Egli inizia la propria missione spinto dallo Spirito. Lo Spirito rivela la sua identità personale in relazione a Cristo. Non si capisce lo Spirito senza questa relazione a Cristo. Come si è già affermato, la presenta e l'azione permanente dello Spirito su Gesù lo qualificano come Messia. e questo si mette in rosalto nel Vangelo di Marco, di Matteo, scusatemi, Matteo 12. «Gesù saputo lo salontano di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, ordinando loro di non divulgarlo, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Porrò il mio Spirito sopra di Lui e annunzierà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà, né siuderà sulla piazza la sua voce. La canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante finché abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome, spereranno le genti». Lo Spirito di Cristo è l'anima della Chiesa. Egli non parla da sé stesso ed è colui che consente di accedere alla verità tutta intera, rimanendo sempre con la comunità. Lo Spirito è colui che riempie gli apostoli e tutti la Chiesa. Essi furono tutti pieni dello Spirito Santo. In atti due. L'azione dello Spirito crea e forma la Chiesa. La Chiesa è vivificata dalla potenza dello Spirito che agisce in essa. E comprendere la sua identità significa comprendere l'identità della comunità cristiana e la sua autocoscienza grazie all'azione in essa dello Spirito. Nel nostro mondo, in modo particolare dunque, questo movimento vostro del rinnovamento ha il compito di mantenersi fedeli nel confronto dell'annunzio di fede trasmesso dalle prime comunità cristiane e questo grazie all'azione permanente dello Spirito nella Chiesa. Quest'ultimo trasforma il tempo della Chiesa in un tempo di kairos, del momento, tempo di salvezza. In virtù del soffio dello Spirito la Chiesa è richiamata all'intimità più profonda di Dio, l'amore, il luogo in cui Gesù introduce l'umanità e il grembo della Trinità quale mistero di comunione. solo attraverso lo Spirito noi possiamo confessare la nostra fe dicendo Abba Padre. Certamente fin dagli origini questa è stata l'esperienza della comunità cristiana che colmata dal dono dello Spirito ha sperimentato la presenza e la nostalgia dell'unità. Una presa di coscienza assai rilevante. Il Concello Vaticano II mette in risalto come l'azione dello Spirito nella Chiesa assolve la sua funzione di azione santificatrice. Questo popolo ha per condizione la dignità la libertà dei figli di Dio nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come nel suo Tempio e ha per fine il Regno di Dio incominciato in terra dallo stesso Dio e deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia lui portato a compimento quando comparirà Cristo vita nuova. Così Concilio Vaticano II Lumen Gentium X la comunità dei credenti in Cristo con la discesa dello Spirito cioè congregata nello Spirito Santo diventa visibile e tale visibilità è sacramentale è il sacramento dell'umana salvezza. La realtà della comunità cristiana si concretizza in maniera dinamica nell'opera santificatrice dello Spirito all'interno dell'unica chiesa di Dio la chiesa non è soltanto la pienezza di Cristo ma del Dio uno etrino che si riversa nella creazione dove sono i tre diceva il Tertulliano il padre il figlio lo Spirito Santo là c'è la chiesa che è in un certo senso il corpo dei tre. Dunque voi avete il compito di coltivare e di rendere presente con la dode il ringraziamento l'azione dello Spirito nella comunità lo Spirito che anche attraverso i carismi coistituisce la chiesa non solo nella sua funzione spirituale ma anche in quella sociale lo Spirito penetra così nell'esistenza umana e la inesta nella dinamica trinitaria del Dio uno etrino andando a rigenerare non solo i singoli individui ma i loro rapporti interpersonali e tutta la vita sociale.